E' un tuo preciso dovere essere stronza, essere stronzo con chi si comporta da stronza o da stronzo con te. Come è un tuo dovere morale di buonsenso essere buono, buona e amorevole con chi è amorevole con te. Questo sembra un discorso molto semplice, ma lo capiscono in pochi. Allora, chi talebanamente promulga l'essere stronzi con tutti, quindi fa il macio o fa la panterona e diventa sostanzialmente un aberrato, una berrata, e calpesta dei fiori, perché quando tu fai lo stronzo con una persona che si è comportata bene con te, è esattamente come se tu vedi una bella orchidea in un giardino e ci pisci sopra e dopo averci pisciato la pesti pure. Oppure ci sono i preti, io li chiamo i preti, i preti del web, ce ne sono qua su YouTube, ce ne sono su Instagram. Volemo sebbene, volemmo sebbene tutti, quello che ti ha mandato a fanculo, sii superiore, aspetta lì la cazzata della sponda del fiume, del suo cadavere che passi e tutte ste puttanate. Io ho premesso che sono più di vent'anni che pratico meditazione trascendentale su di me e lavoro interiore e ho letto anche parecchi testi di natura orientale. Ma non è che bisogna prendere dell'Oriente tutto, come dico sempre, ogni disciplina, ogni autore, ogni libro ha il buono da prendere e l'altro da scartare. Ok, benissimo, allora se una persona che ti tratta di merda e ti manda a fanculo, tu gli lanci un mazzo di rose oppure ti metti lì a fare il filosofo, aspetto che il cadavere passi sulla sponda, ma che cazzo di cadavere? Ma tu che stai guardando questo video, hai mai visto il cadavere di qualcuno, di chi ti ha mandato a fanculo e che tu non l'hai rimandato a fanculo passare su sta scazzo di sponda? E poi chi cazzo ha tempo di stare su una sponda a perdere tempo a guardare sto coglione o sto cogliona che passa? Ma dai raga, svegliamoci. Allora, tratta gli altri come loro ti trattano a te. Questa è la regola mia, se me la volete ascoltare, perché io non sono nessuno, l'ho sempre detto in questo canale. Ma trovo che sia la regola più equilibrata, perché ripeto, chi fa lo stronzo con tutti, Anche quelli che fanno qua i video su YouTube, che vogliono fare i grandi imprenditori, che guadagnano 20-30 mila euro al mese, calpesta chiunque, fotti, te ne incula tutti pur di guadagnare più soldi. Ecco, quelli sono dei bastardi, a prescindere con tutti, verso sia persone buone che persone cattive, e sono dei deficienti, sono persone che non hanno capito un cazzo dalla vita. E altresì i santoni, con due euro bucati in tasca, morti di fame, che fanno il volemose bene, amamose, e volemose bene a tutti, e se uno ti tira un pugno in faccia, tu, sii superiore, e digli ti voglio bene comunque, non hanno capito un cazzo neanche quelli. Non hanno capito un cazzo neanche quelli. Ok? Chiudo qui questo breve video. Se siete d'accordo con quello che ho detto, mettete un like, un commento, condivisione del video, campanellina sgrillettata che poi vi dà le mie nuove notifiche, iscrizione al canale, le solite stronzate che vi dico sempre. Se non siete d'accordo con questo mio video, vi voglio bene, mandatevela a pianta al culo.